I guardi sono tra i passaggi più spettacolari nel mondo dei rally, però i guardi stranamente e a differenza di quanti pensano sono molto pericolosi e in più possono osservare delle sorprese veramente cattive per gli equipaggi, per i concorrenti. Innanzitutto bisogna distinguere i guadi, uno dice no ma i guadi uno entra su una pozza d'acqua e poi la traversa e va via, no. Ci sono vari modi di affrontare un guado e bisogna appunto distinguerli in base a cosa? In base alla profondità dell'acqua e in base alla lunghezza dello specchio d'acqua che si deve attraversare. Mi spiego meglio. Se un guado è profondo è inutile entrarci ad altissima velocità perché la vettura entrando in acqua alza un'onda abbastanza alta e quest'acqua entra nelle feritoie del cofano e nel 90% dei casi, anche se la macchina è super preparata e super sistemata per determinati eventi, di sicuro nel 90% dei casi dell'acqua e dell'umidità va a finire nel motore e il motore si può spegnere. Quindi i guadi molto profondi bisogna affrontarli lentamente e farli in accelerazione. Perché? Perché così si tiene un po' alto il muso, la parte anteriore della vettura e l'acqua tende a non entrare, a non superare o a salire sul cofano e quindi bagnare il motore. Certe volte succede che addirittura entra dalle feritoie sotto i tergicristalli e i piloti si bagnano completamente i piedi e le gambe dentro all'abitacolo. Invece i guadi con l'acqua relativamente alta, quindi abbastanza bassa, specialmente se sono molto molto lunghi, vanno affrontati in piena velocità in modo da creare, molti avranno già sentito parlare, avranno sentito questo termine, creare aqua planning. Cosa succede? Che la vettura ad alta velocità, il pneumatico e la slitta stessa, la slitta e la protezione che c'è per il motore nella parte inferiore dell'automobile, fanno da scivolo, da slitta e tengono la macchina alta dal pelo dell'acqua e quindi si riesce ad attraversare il guado ad una velocità molto alta, quasi con un effetto planante, un effetto motoscafo. Logicamente durante l'acqua planning il pilota non ha nessun controllo della vettura, quindi affrontando un guado ad alta velocità, sempre con l'acqua bassa, bisogna entrare sicuramente con le ruote dritte e con la macchina in direzione del rettilineo, perché se uno entra o con le ruote storte o questo guado è leggermente in curva, di sicuro la macchina parte per la tangente ed esce di strada o attraversa il guado e l'uscita probabilmente nella maggior parte dei casi non è più sulla strada ma sui bordi o sul prato o sulla situazione che uno va a trovare, non però dentro la carreggiata stradale. Quindi acqua profonda, rallentare, entrare in acqua lentamente e fare l'uscita del guado in accelerazione. Acqua bassa e magari con una certa lunghezza di specchio d'acqua, entrare ad alta velocità però già con la macchina in direzione per l'uscita perché durante l'aqua planning non si riesce a fare nessuna correzione di traiettoria.